Un primo assaggio di quanto gli possa costare lo scontro interno con Fitto, Berlusconi lo ha avuto sulle posizioni assunte sulla legge elettorale. L'europarlamentare pugliese può contare su una quarantina di parlamentari pronti a far saltare gli accordi di partito. Se forse Italia non voterà l'Italicum, i numeri garantiti nell'accordo con il PD potrebbero venire a mancare e di conseguenza avrebbe meno il ruolo nella partita per l'elezione al Quirinale. Dopo le burrascose riunioni al Senato e poi a Palazzo Grazioli, Berlusconi tenta in ogni modo di ricucire lo strappo e convoca Fitto per un faccia a faccia ha durato poco più di un'ora. All'uscita Fitto non rilascia dichiarazioni ma è evidente che ognuno è rimasto sulle sue posizioni. Però possiamo chiederle di che cosa avete parlato, Italico? Di tante cose. Il candidato in Puglia? Abbiamo parlato di tante cose, grazie. Buona giornata. Il braccio di ferro dunque continua e gli effetti saranno in commissione in aula sulla candidatura per le regionali in Puglia. La situazione è abbastanza chiara. Dopo il no di Berlusconi alle primarie, Fitto non metterà bocca sul nome da scegliere e lascerà che a farlo sia Berlusconi che si assumerà l'onere di un eventuale risultato deludente.